salve a tutti registro oggi che è sabato per condividere domani che domenica e si possono dire le parolacce avevo iniziato a registrare questo video abbiamo due varianti pompon azzurro e il pompon giallo avevo fatto tutta una bella introduzione ho già finito la prima variante 20 minuti di variante meravigliosa che mi sono goduta solo io e ovviamente si è interrotto tutto si è spento il cellulare file danneggiati a me viene da piangere ma non tanto per il lavoro fatto perché era una variante bellissima cioè quadrava c'era una storia spettacolare si vede che non deve arrivare questa storia voi direte cosa stavamo chiedendo com'è la situazione e cosa che e che cosa converrebbe fare ora avevo anche spiegato che gli interattivi non sempre risuonano totalmente con la nostra situazione quindi noi non li dobbiamo prendere come vangelo che poi il libero arbitrio che ci compete fa esercitato che magari ci danno solamente un punto di vista su una qualsiasi possibile probabile ipotetica realtà e che quel punto di vista ci mette in contatto con il nostro modo di reagire se ci trovassimo dinanzi a quegli eventi quindi gli interattivi sono buoni per conoscerci meglio bla bla tutta una bella introduzione che adesso ho riassunto con un bla bla e mi dispiace ma proprio quanto è brutto dover ripetere le cose quando ci hai messo l'anima e dopo ti rendi conto che il cellulare dice che hai un giga di video registrato e questo giga di video registrato non è leggibile vabbè ripartiamo mi dispiace per le persone che magari avrebbero risuonato tanto con la prima variante ora noi con molta pazienza poiché le parolacce le pensiamo non le possiamo dire e mi sta bene è il mio karma evidentemente volevo anticipare di troppo questo video facendolo il giorno prima e quindi mi ha detto il destino rifallo ok ci rifaccio allora ricominciamo pompon celeste pompon giallo sono anche molto carini morbidi morbidi iniziamo dal pompon celeste lo mettiamo qui recuperiamo il centro perché altrimenti è molto peggio e andiamo un attimo a chiarire com'è la situazione quindi ripartiamo da zero e vediamo un po cosa viene fuori vorrei anche spoilerare o spoilerare non lo so neanche dire certe parole per me sono diventate deliscio di lingua potrei spoilerare la storia però poi e vabbè si vede che era rivolta a me solo a me dovrò agire io allora prima variante che cosa abbiamo un nuovo inizio una primavera la volontà di riprendere in mano la propria vita in maniera costruttiva la consapevolezza che non si può attendere che si deve agire e potremmo dire anche un po' di buon umore recuperato quanto meno tutto quello che è stato fatto nel passato per quanto vi riguarda ha iniziato a manifestare i frutti che già erano in cantiere perché prima che questi frutti possano venire alla luce e farsi concreti visibili commestibili condivisibili ecco devono comunque attraversare tutta una fase prima teorica e poi comunque pezzo per pezzo devono pure essere assemblati da questa energia che tutto muove che sia il nostro pensiero perché voi immaginatela dovete fare realizzare una grande impresa questa grande impresa richiede tanti piccoli passaggi dovete aprire non so un business dovete trovare il commercialista dovete fare quello 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 e quell'altro vuol dire prima è tutto nel pensiero e poi si concretizzano le parti le parti che portano al tutto l'impresa finita perfetto voi siete lì gli strumenti li avete siete riusciti anche a diciamo procurarvi qualche cosa di particolare che vi serve sembra quasi che stiate preparando una sorta di rito di purificazione quindi avete delle erbe avete il fuoco ed è una primavera siete predisposti bene a livello di animo predisposti bene a livello di animo e siete anche pronti stare osservando il contesto ed è come se steste osservando dinanzi a voi per vedere se qualcuno arriva o non arriva o se si può finalmente partire ora questa volontà di partire di iniziare qualcosa di nuovo soprattutto di muovervi dal punto in cui oramai vi trovate bloccati da molto tempo è più un entusiasmo non del tutto decodificato in un'azione concreta che non un progetto diciamo definito e chiaro infatti questo matto dei tarocchi si trova un po' a poter optare per tutte le possibilità che sia un tornare indietro, un andare avanti, un cambiare direzione qui non ci sono dei punti di riferimento questa persona è immersa nell'universo quindi non c'è un est, un ovest, un sud, un nord, non c'è nulla e poi c'è lo zero del matto dei tarocchi che abbiamo detto anche ripartire da zero l'uomo cosmico, l'utero, il sacro graal, l'inizio di tutto però va detto anche che questo personaggio sembra alternare la sua volontà voi sembrate alternare la vostra volontà tra momenti di forte consapevolezza e focalizzazione e momenti un pochino dove sembrate più disonnambuli un pochino come sonnambuli immersi in un torpore che non si capisce bene se è una sorta di scelta indiretta quindi condizionata che vi muove oppure è proprio la vostra volontà fatto sta che andate con queste mani avanti un pochino a tastare la situazione per quel poco che potete prevedere ora in questo momento siete quindi portati dal presente a dover di necessità mettere nero su bianco un piano di azione quindi abbiamo detto ci sono due forze sono tutte e due delle forze che vi portano comunque ad agire a fare qualcosa una sembra più convinta di sé anche un po' spavalda e sicura che tutto andrà bene l'altra ogni tanto si perde allora cosa dovete fare chiudervi in voi nella vostra stanza nella vostra interiorità e per quello che potete fare un piano d'azione passo dopo passo sono solo che non dovete isolarvi cioè se vi chiudete qui per isolarvi non uscire più all'aperto ad agire diciamo che perdete un'occasione importante perché il contesto questa primavera questa ripartenza questa apertura al momento c'è quindi non rispondete ad un'apertura con una chiusura totale però ritagliatevi anche il tempo per fare dei dei piani dei tentativi però dei tentativi come si può dire quando uno è strategico quando in realtà suddivide quello che dicevamo prima un percorso più lungo in tanti piccoli sottopercorsi tante piccole tappe per un obiettivo grande che sarà dato poi dalla riuscita dalla concretizzazione di tutti i piccoli tasselli di cui questo obiettivo più grande si compone però guardate qui nel cestino vedete ci sono tantissime cartacce se riesco a mettere a fuoco vuol dire che già avete ragionato pure troppo solo che scartate ogni volta il piano d'azione ecco sarebbe il caso magari di muoversi però questo ce lo diranno le carte il punto di partenza è quello che abbiamo visto quindi la volontà di fare qualcosa potrebbe essere relativamente all'amore potrebbe essere relativamente al lavoro questo lo sapete voi vediamo un pochino ovviamente se già di partenza la variante non risuona minimamente con la vostra vita la potete ascoltare giusto per così passatempo magari arriva lo stesso messaggio però diciamo che è normale che mi scriviate poi non ci hai preso a parte il fatto che non è che debba prenderci non è quello il senso però ecco la prima carta questa è la carta di apertura mazzo è carina allora poi che nulla avviene per caso sicuramente e questa in realtà non è la carta di apertura mazzo è la carta pubblicitaria di un altro mazzetto vedete i due opposti che si conciliano per aprire una nuova possibilità quindi questo lo diciamo perché lì c'erano le due forze una ambientata di giorno una di notte una più sicura di sé una più dubbiosa ecco fate diciamo conciliate ecco non fate coincidere ma conciliate gli opposti allora cosa dovreste potreste fare per questa prima variante beh iniziamo da un asso di coppe che andiamo un attimo a zoomare per mostrarvene la bellezza qui veramente sembra l'ente massimo il sommo amore che è talmente stracolmo di sé che deve per forza far fuoriuscire da sé quest'amore in più che non può trattenere a parte che al di là dell'amore o della passione il fatto stesso di stare in questa posizione e non riuscire a trattenere niente vuol dire che c'è anche una grandissima attrazione poi è uscita prima la carta del mazzetto della legge di attrazione comunque a parte le battute c'è anche purezza di sentimento però qui c'è tanto da dare ma è tanto che si vuole dare e anche una sorta di leggerezza ritrovata che è il consiglio che la carta vi dà a livello di sentimento innanzitutto alzare una coppa e soprattutto gli amanti del calcio lo sanno è sempre diciamo una dimostrazione di una grande conquista di una vittoria con fierezza e questa è una grande vittoria una grande conquista dal punto di vista sentimentale però come fate a brindare con un'altra persona se non siete primi a diciamo porgere il vostro calice avvicinando la vostra mano l'altra persona neanche conosce le vostre intenzioni ecco la carta dice la parte migliore di voi quella più sincera quella più pura quella che vuole anche pace abbiamo una colomba ecco vi spinge a recuperare un qualcosa andando a conciliare il vostro animo con l'animo di qualcun altro che evidentemente deve aver risvegliato in voi nel presente o nel passato e quindi poi torna nel presente un sentimento fatto sta che comunque questa persona chiunque essa sia ecco una persona che in voi qualcosa muove smuove e comunque un qualcosa che dovrebbe darvi una leggerezza e tirarvi anche su in tutti i sensi di morale abbiamo una frezza che punta in su non siate maliziosi quindi innanzitutto la prima carta è e non siate maliziosi la prima carta è di apertura verso l'altro l'altra con leggerezza anche perché in questo momento voi siete fermi già da tanto tempo e lì dove siete fermi e bloccati dove non riuscite effettivamente a vedere una prospettiva dove vi trattenete ci sono tanti e tanti ostacoli a parte che le spalle sono spalle al muro e indietro non si può tornare nel presente ci sono tantissimi ostacoli che piantati così a terra sembrano quasi dirvi mettici una croce sopra anche perché non hai tante opzioni e possibilità ma il fatto è che qui l'attesa è lunga a parte che l'attesa è molto lunga ma anche l'energia di questo contesto nel quale vi trovate è un'energia dove le 50 sfumature di grigio tutto sono tranne che qualcosa di piacevole questi alberi spogli di questa natura che sembra morire a se stessa questo temporale e questo vento e quasi voler fiutare un qualcosa che in fondo ne vedete e ne vedete da tanto quindi abbiamo una situazione di immobilità rispetto a una persona con la quale probabilmente c'è uno stallo sì un qualcosa che non va né avanti né indietro ma una grande volontà di amare di condividere e soprattutto di tornare a sperimentare la bellezza della primavera dove la primavera prendetela come immagine cioè anche avere una prospettiva futura poi magari questo qualcosa non arriva non si realizza ma è il desiderio di averla questa prospettiva ora beh direi che parte il fatto che la temperanza ci dà sempre questa tempistica un pochino lunga ma la temperanza non è mai tempistica lunga per forza da adesso in avanti potrebbe dire anche recuperare qualcosa di molto molto indietro di passato qui cosa abbiamo abbiamo una situazione ferma pesante che non va da nessuna parte la vostra volontà in realtà di rimanere in questa situazione le carte dovrebbero darvi il consiglio su come agire voi in questo momento siete qui conoscete gli ostacoli e li avete accettati quindi il vostro sacrificio volontario o involontario che sia in realtà volontario è un sacrificio abbracciato fatto sta che da soli non vi potete liberare a meno che non permettiate a qualcuno di avvicinarvi allora forse questo qualcuno vi può aiutare ad allentare le corde che vi trattengono fatto sta che il brindisi di cui parlavamo all'inizio è un qualcosa che sembra essere auspicato d'altronde questa carta col senno di poi e vedendo bene quello che è venuto dalla seconda potrebbe anche essere che questo è il vostro desiderio ma non siete voi a traboccare tutta questa energia ma la persona che rientra nella vostra vita oppure che entra adesso e ci sarà per molto tempo una sorta anche di angelo custode o anche la consapevolezza non ma anche lo spirito santo quindi all'improvviso l'illuminazione su una situazione sentimentale che vi fa tornare di nuovo a scorrere in quella direzione dove chi ha di più dona l'altro cioè mentre qui nulla avete nulla vi viene dato tutt'al più molto vi viene sottratto in quest'altra carta vediamo che quell'abbondanza è talmente tanta 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 che alla fine può condividere e vi può ricaricare come se il vostro motore si fosse fermato arriva la persona con i cavetti e la sua macchina aggancia i suoi cavetti a voi una bella accelerata e risveglia pure voi e quindi vi risveglia pure la carta del sonnambulismo del matto dei tarocchi che sembrava andare un po' vagando quindi qui per la prima variante più che cosa dovreste fare cosa dovreste forse accogliere perché ripeto questa carta vorrebbe rivolgersi a voi quindi voi che andate a restituire qualcosa a qualcuno oppure a qualcuno che entra nella vostra vita e vi aiuta fatto sta che una situazione che si deve chiudere c'è e una scelta che si deve fare c'è questa scelta porterà sicuramente a optare per una situazione al posto di un'altra il fatto è ciò che vi preoccupa e che è evidente e palese è anche il fatto scusatemi la ripetizione è anche il dover diciamo abbracciare la possibilità che la chiusura sia per sempre voi avete paura di questo quindi piuttosto che abbandonarvi a questo pensiero che poi vorrebbe anche essere un pensiero sbagliato perché il futuro non lo possiamo prevedere al 100% e poi ogni morte ha una trasformazione può essere anche una rinascita la paura è proprio quella io resto qui in fondo ho fatto l'abitudine in fondo non lo vedo cosa sto perdendo è questa la cosa peggiore che aver chiuso gli occhi in realtà vi obbliga a rimanere nell'ambito dei ricordi i ricordi sono sempre comunque qualcosa di stravolto dalle aspettative e non vedete che c'è altro intorno a voi che potrebbe giungere a voi però prendere una decisione vuol dire morire a quello che si era rinascere a qualcosa di nuovo solo che a un certo punto uno si può dire va bene ma adesso ho fatto tanto posso veramente sacrificare tutto quello che è stato fatto sta che nel non sacrificare nulla rimanete in questa condizione qui che è anche una condizione però di malessere vediamo un attimo qui c'è il mago un mago che deve trasformare è un mago che ha strumenti e conoscenze per trasformare però è anche una persona che deve prendere in mano la propria vita ed è una persona che deve agire non solo una persona che deve agire deve agire sulla base di tutto quello che ha imparato per esperienza il mago è anche alla fine del percorso l'iniziato che ha finito appunto tutta la sua crescita la sua iniziazione ha raggiunto diciamo il diploma da iniziato partendo dallo zero matto dei tarocchi attraversando tutto quanto il cerchio e tornando al punto di partenza questo ritornare costantemente allo stesso punto ma mi verrebbe da dire con la consapevolezza sempre accresciuta di un'ottava superiore questo movimento che sembra sempre simile però c'è sempre un innalzamento si ripercorre la stessa traiettoria ma sempre a livello un pochino più consapevole quindi qui abbiamo la necessità di renderci conto che siamo parte attiva di tutti i cambiamenti della nostra vita per quanto ci vogliamo bloccare fermare e vogliamo rimanere a ristagnare non lo si può fare che dobbiamo contribuire con la nostra azione e con la consapevolezza della nostra azione dei cambiamenti che potrebbero essere comunque cambiamenti in meglio a parte che il cambiamento è sempre meglio al di là di come lo possiamo decodificare noi perché vuol dire sempre aver fatto quel passo in più circa il proprio percorso ma soprattutto è ricominciare riavvicinarci a quella primavera di cui parlavamo all'inizio il bagatto associato alla riete alla primavera all'inizio anche un pochino potremmo dire l'azzardo però semmai si azzarda semmai si tenta neanche si può immaginare di poter vincere qualcosa di importante qui il grande dilemma è in realtà un qualcosa che viene riassunto nel vostro non vedere però è come se tutto a un certo punto diventerà troppo evidente per non vedere vediamo cosa vi consigliano ancora beh qui credo che il messaggio di fondo con questo bellissimo sei di coppe è avere il coraggio di non chiudere gli occhi dinanzi a un qualcosa che si sta facendo sempre più palese nella vostra vita questo qualcosa che si fa palese nella vostra vita richiama il concetto della condivisione la condivisione del sentimento un sentimento che vedete chiama la fioritura all'apertura è un qualcosa di che risuonerà anche nell'altra persona magari stiamo parlando di lavoro quindi voi vi state chiedendo sulla collaborazione comunque qui c'è il desiderio e c'è la necessità di recuperare il dialogo con qualcuno che vi sa capire potete anche non farlo ma quello che le carte vi suggeriscono è darvi una possibilità darvi una possibilità perché c'è tanta abbondanza che potete ancora raccogliere di cui potete fare tesoro e che magari potrebbe essere anche l'inizio di qualche altra cosa allora eppure io voglio vedere ancora una carta ricordiamoci quante ne abbiamo prese quindi siamo se arriviamo alla settima e tra l'altro vi posso dire che c'è qualcuno che vi sta aspettando questa è la cosa particolare c'è qualcuno che vi sta aspettando senza fretta e da qui anche l'eternità o la tempistica lunga della temperanza una persona che vi potrebbe aspettare ancora per molto tempo ed è quella persona che vi restituirà ciò di cui avete bisogno probabilmente con questa persona siete stati anche gentili siete stati gentili nel passato però c'è proprio una chiusura da parte vostra ora questa chiusura che vi spinge a dover fare quella scelta e quella scelta è comunque vedete due spade tagliare o adesso a sinistra quindi una delle due cose va lasciata alle spalle questo essere bendati lo ribadiamo è o non voler guardare o non voler vedere o cercare di vedere il meno possibile oppure siete persone molto razionali che stanno cercando la risposta dentro di sé a livello proprio di pensiero di ragionamento logico fatto sta che alle spalle questo mare con la sua risacca viene semplicemente a dirvi che non c'è una risposta onnivoca non c'è una risposta per sempre né una risposta che funziona al 100% il mare accarezza le coste e le coste le modifica con il tempo nel modificarle in realtà è come se le ricamasse non c'è non c'è nulla che rimane uguale a se stesso può rimanere uguale a se stesso ma il cambiamento non è detto che sia un peggioramento il cambiamento è semplicemente qualcosa di diverso e il fatto che ci sia qualcosa di diverso vi fa anche capire che il tempo passa e che lo spazio esiste e quindi che c'è margine di manovra e c'è ancora possibilità fatto sta che sinceramente con tutto ciò che le carte vi possono dire questa chiusura questa clausura con l'eremita di prima questo non vedere questo rimanere lì è ancora una vostra scelta però avete qualcosa di buono che in fondo vi attende semplicemente non siete ancora convinti e per quanto le cose possano essere evidenti non volete ancora esprimervi quindi per la prima variante diciamo che un pochino questo bagatto può dire a sé che a causa del suo malo della sua felicità pianga o si complimenti con se stesso siete talmente padroni della vostra vita nel bene e nel male che neppure il contesto più favorevole vi può costringere ad accettarlo non lo so fatemi sapere variante gialla com'è la situazione per la variante gialla cosa abbiamo allora voi potete essere in questa prima carta tanto la persona completamente aperta pura sincera evidente con il volto scoperto quanto l'altro personaggio che stringe tra le mani un pugnale che ha le mani chiuse sul cuore e il volto coperto una situazione poco chiara che diciamo agli occhi della gente sembra essere ancora concreta e reale gli altri non riescono a vedere al di là dell'apparenza e l'apparenza di questa situazione è che tutto più o meno funziona o quantomeno nulla di nuovo sul fronte occidentale niente di invariato fatto sta che uno dei due sta rimuginando una di due uno dei due comunque uno tra questi due personaggi sta rimuginando e si sta chiedendo effettivamente se quello che sta vivendo va bene così o se è giunto il momento di cambiare o quantomeno di palesare quello che porta dentro e il problema qual è che questa persona quando parlerà sarà come un po' un'esplosione improvvisa e l'altra rimarrà sbigottita l'altra persona dirà ma come io non ho mai notato tutto ciò può essere che siamo arrivati a questo punto è beata diciamo gioventù scherzo è beata ignoranza nel senso di te che ignori non nel senso che sei ignorante te che ignori come stanno le cose e come stanno le cose dentro di me se siamo arrivati a questo punto io non posso più trattenermi anche perché da molto tempo anche per questa seconda variante come nella prima che c'è comunque un non voler vedere dinanzi a sé perché voler riuscire a guardare dinanzi a sé o concedersi di guardare dinanzi a sé e quindi sciogliere tutte le riserve metterebbe questa persona che secondo me siete voi nella condizione di dover fare quel passo che lo porta la porta verso il futuro e questo futuro anche qui è un futuro di scelta anche qui abbiamo la necessità dico anche qui perché uscirà anche per la prima variante di dover dare un taglio a qualche cosa anche perché nel passato dobbiamo aver fatto vissuto comunque iniziato un qualche lavoro o una qualche relazione o un qualche commercio umano di qualsiasi natura di sentimento pratico con qualcuno che ci ha limitato le prospettive quindi ci tiene fermo lì ferma lì ci tiene mobilizzate immobilizzati però poi alla fine non è mai il nostro fianco cioè il fatto di averlo averla al fianco è più ipotetico che reale quindi c'è anche una sensazione profonda di solitudine la volontà di ricominciare e l'impossibilità di vedere come ricominciare questo è un bagatto un bagatto di notte che sembra anche essersi iniziato un pochino a scocciare sta imprecando contro il cielo però è anche un bagatto che a modo suo scioffre in maniera molto epidermica ci sono questi alberi senza foglie senza frutto scheletri di un qualcosa che non è più che però hanno queste radici esposte e da un momento all'altro potrebbero cadere crollare come da un momento all'altro potrebbe farsi evidente questa confessione qui c'è qualcuno che deve dire chiaramente in faccia all'altro qualcosa che pensa che sta trattenendo dentro di sé o per educazione o per convenienza o per convenzione o perché semplicemente non ha avuto modo di incontrare fisicamente la persona e quindi non ne vuole parlare a distanza vediamo cosa vi consigliano le carte per la seconda variante caro matto dei tarocchi con una rosa bianca che guardi lontano che sembri piuttosto malinconico che osservi una prospettiva tra queste montagne bellissime sembri anche un po' un principe azzurro beh con questa penna viola quindi persona un po' stravagante in che senso una persona diversa dagli altri una persona che ha una qualche peculiarità per cui si riconosce ed è distinguibile che ha questa rosa quasi a voler chiedere perdono a qualcuno non è una rosa di passione non è una rosa di gelosia è proprio una rosa di facciamo pace di avviciniamoci voglio ricreare il ponte il collegamento io con il pensiero sono oltre il mio corpo sto venendo nella tua direzione non sono ancora riuscito ad arrivare perché non ho terra sotto i piedi il mio la mia strada è proprio interrotta quindi se mi senti continuo ad aspettarmi perché io ho preparato ho fatto tutto le valigie mi sono rivestito sono pronto per venire da te e potrebbe essere anche recupero di qualcosa del passato qui stiamo guardando verso la sinistra però è anche una persona che effettivamente dentro di sé questa chiarezza l'ha già raggiunta cioè c'è un sole c'è un'evidenza ho capito finalmente ho capito anzi ho capito troppo tardi non so neppure se farò in tempo a recuperare il principio principessa di dirsi voglia fatto sta che c'è la volontà di concretezza c'è anche in realtà una bella diciamo prospettiva per quanto riguarda l'affinità nella progettualità e anche nella fisicità senza voler tirare in ballo Freud e poi si tratta di una situazione in cui questo bastone che il matto dei tarocchi adagia sulla sua spalla che poi anche potremmo richiamare a questa immagine ha le sue foglioline quindi non è un qualcosa di morto e sepolto se conficcasse questo bastone nella terra probabilmente rimetterebbe radice ma non sono le radice esposte della carta del bagatto di prima quelle che lo fanno soffrire questo è un qualcosa che in realtà restituisce energia calore e vita sono radici che possono attingere lo possono ricaricare restituire questo desiderio del futuro questa prospettiva che gli dà anche la voglia di fare le cose perché in questo momento questa persona è rimasta comunque bloccata l'abbiamo già visto con le carte di prima lo confermiamo con queste carte non solo va detto anche che questa persona ha la consapevolezza di aver volutamente tante volte rifiutato situazioni positive che avrebbero potuto soddisfare la sua sete soprattutto di sentimento e di affetto quindi ci sono state occasioni in cui qualcuno si è diretto verso di lei o verso di lui portando questa coppa invitando a un brindisi a una condivisione a donare qualcosa però lui non ha guardato o ha fatto finta di non vedere o non ha risposto o non ha cercato o non ha comunque proseguito e ha lasciato la cosa morire lì e non solo ha lasciato morire lì la cosa ma probabilmente o più persone diverse o la stessa persona più di una volta ha cercato di coinvolgere questa donna o questo uomo che non si è mossa da quell'albero da quelle radici che ora sono esposte nella carta di prima ma che nel passato evidentemente ancora erano abbastanza solide semplicemente che quella persona è rimasta sola ad attendere ora le carte cosa dicono caro mio matto di tarocchi cara mia matta cara mia persona bizzarra che nonostante tutto sei in grado di andare al di là della logica e sai prevedere anche cose che normalmente non sembrerebbero possibili tu resti ancorato al tuo passato benvenga ma è un passato che ti sacrifica e ti fa essere anche molto triste sembri quasi una sorta di sembri un piantone che sta lì a fare che cosa la guardia al milite ignoto non c'è il milite non c'è niente non c'è la fiamma tu sei lì ad attendere che passi chi che torni chi hai degli ostacoli si hai delle cose da sistemare ma è ancora una possibilità se solo tu decidessi di dare a questa possibilità a sua volta la sua possibilità scusatemi la ripetizione qui c'è qualcosa che tu stringi in maniera forte è un qualcosa che ti appartiene ed è un qualcosa che solo tu puoi lasciar morire a se stessa se stesso quindi te cara donna te caro uomo che guardi questa seconda variante non è tutto finito ma sta cambiando tutto quindi probabilmente se ti ostieni a voler rimanere nella situazione precedente ci vuoi rimanere benissimo però probabilmente il malessere che provi quella solitudine quella insoddisfazione non passerà potrai solo imparare a convivere con essa se vuoi invece cambiare o vuoi recuperare ci sono delle prospettive buone quantomeno ci sono delle prospettive concrete il problema è dentro di te è nel tuo non voler voltarti verso il futuro o comunque rispetto al futuro che arriva ti volti dall'altra parte beh va detto che questi ostacoli possono essere diciamo superati solo affrontandoli uno ad uno e se tu guardi questa carta vedi che qui finisce la terra ed è questa prospettiva qui sembra che stiamo alle spalle o meglio se lui si voltasse staremmo alle spalle in realtà non siamo alle spalle siamo alle spalle di lui quando si volta e vediamo che questi ostacoli ecco sono qualcosa che ti rallentano ti bloccano ma tu sei già armato per poterli affrontare è solo che devi prendere in mano la situazione ma con convinzione cioè qui sorreggiamo il nostro bastone con una mano qui la ferriamo già con due mani e ci stiamo chiedendo ma lo devo fare non lo devo fare ne sono in grado ma qui a un certo punto siamo guerriti iniziamo a muoverci iniziamo ad agire anche perché altrimenti rimarrai questa è una sorta di gabbia nella quale sei bloccato perché questi paletti questi ostacoli sono anche ciò che non ti permette di muoverti in nessuna direzione bene torno alla stessa carta che si è manifestata con forza nella prima variante anche qui si parla di dover scegliere di dover scegliere ed è inutile cercare di supplicare soprattutto circa la situazione che tu sai essere terminata quella situazione non potrà mai tornare come prima quindi quello che tu stai coltivando è ricordo di qualcosa morto di qualcosa che comunque è difficile possa risorgere non è impossibile perché ci dobbiamo aprire anche alle più strane eventualità però al momento sembra sicuro sicura della sua scelta questa persona che ha messo una pietra sopra a ciò che tu stavi condividendo con lei è forte è ferma lì sul suo trono ribadisce la sua volontà ma lo fa in maniera proprio evidente abbiamo un sole non è neanche una carta notturna è una morte di giorno che è più palese di così e tu sei nel ruolo di chi supplica questo è il problema e da un lato non riesci a toglierti a levarti a sollevarti da questo ruolo e allo stesso tempo questa cosa ti fa sentire causare la tua stessa umiliazione e ce l'hai pure con te stesso bene sembra un po' un film con Indiana Jones e il tempio maledetto non lo so comunque qui siamo chiusi in una tomba non perché siamo morti ma perché abbracciamo la morte cioè di una situazione che non ha futuro noi abbracciamo tutto il contesto ora è una tomba regale bella ti consacra l'immortalità però è anche la tua stessa prigione un labirinto ed è anche comunque un qualcosa che sembra quasi una maledizione addosso ora sta a te sta a te decidere se accettare questa situazione che rimarrà al momento invariata e che può avere senso solo perché tu decidi che è il tuo tutto e che oltre questo non puoi andare non vuoi andare e preferisci rimanere in un ricordo eterno di un qualcosa che è stato ed è stato grandioso però ricordati che non c'è civiltà per quanto grande e che abbia fatto cose grandiose che alla fine con il passare del tempo non torni polvere certo restano i monumenti e restano le tombe ma in quelle tombe c'è il vuoto puoi abbracciare benissimo questa situazione oppure puoi provare a liberarti da questo blocco affrontando chi ti trattiene e provando ad abbracciare l'incognita del nuovo che comunque da qualche parte si sta aspettando perché già in passato ha cercato di avvicinarti perfetto due varianti che secondo me sono molto legate peccato che non abbia registrato l'altra questa cosa veramente mi dispiace io vi ringrazio fatemi sapere e ci sentiamo al prossimo interattivo un abbraccio al prossimo interattivo Grazie a tutti.